Musica Operatori della sanità privata in sciopero per il giusto contratto anche a potenza presidio in Viali Verrastro per chiedere il rinnovo del contratto nazionale Arisaiop alla regione e chiesto inoltre l'adeguamento delle tariffe per l'assistenza nelle RSA e nei centri di cura religiosi. Governatore Bardi, la sua prima giunta chiamata a risarcire oltre 200.000 euro per la nomina del giornalista Massimo Calenda a capo dell'ufficio stampa della regione per la Corte dei Conti, non aveva i requisiti per ricoprire l'incarico dirigenziale. Futuro Stellantis, oggi l'atteso vertice in regione con i sindacati che incontreranno il presidente Bardi e un patto per Meffi da esigere al tavolo ministeriale. PNRR, progetti a rilento, difficoltà per gli interventi sul dissesto idrogeologico e la missione 6 sulla sanità non sono buone le notizie dalla struttura di missione che traccia un bilancio. Le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Rocco Scotellaro toccano anche la Puglia, gravina incontro dedicato all'intellettuale politico lucano con ospite la storica tricaricese Carmela Biscaglia. Buon pomeriggio dallo studio della Nuova Tg per i ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale. Dunque lo sentivamo dai titoli. In primo piano c'è la sanità con le difficoltà del settore della riabilitazione. Oggi a potenza il sit-in dei lavoratori della sanità privata a causa del mancato rinnovo del contratto nazionale Aris-Aiop. Centinaia di operatori lucani che da due anni attendono l'adeguamento. Sentiamo Michelangelo Russo. La decisione delle associazioni datoriali di non rinnovare il contratto Aris-Aiop ha spinto stamani i lavoratori della sanità privata impegnati nella riabilitazione a presidiare Viale Verrastro, una vertenza nazionale che in Basilicata interessa centinaia di lavoratori. Will FPL, FP CGL e CisleFP, le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero in tutte le regioni. Noi riteniamo invece che bisogna sottoscrivere il contratto collettivo nazionale di lavoro in rinnovo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, CGL e Cisle Will in particolare, perché noi dobbiamo evitare il dumping contrattuale, dobbiamo evitare il ricorso a forme che non rispondono ad un lavoro dignitoso e pagato adeguatamente. A pesare sul clima di insoddisfazione che si respira tra gli operatori, anche il mancato adeguamento delle tariffe da parte della regione Basilicata, con effetti negativi sulle retribuzioni dei lavoratori. Tutti i lavoratori e le lavoratrici del socio assistenziale e del socio sanitario, ovvero l'adeguamento delle tariffe, delle prestazioni, che è fermo al 2009. Questa è una circostanza che genera fortissimi problemi nell'erogazione delle retribuzioni ai lavoratori e che a tutt'oggi determina il prolungamento e il prosieguo di una vertenza che ormai dura da oltre due anni, cioè quella dei lavoratori di Universo Salute, ai quali dopo il rinnovo del contratto ARIS-IOP della Sanità Privata, è stato applicato un contratto dell'RSA. Noi stiamo aspettando ancora che, nonostante le risorse regionali che erano state stanziate, per questo si applica a questi lavoratori il giusto contratto. E il blocco delle tariffe sta mettendo in ginocchio anche l'intero sistema della sanità privata. Siamo qui a rappresentare dei lavoratori che chiedono null'altro che la dignità della loro busta paga, la dignità del loro lavoro e che vengano in qualche modo ristorati da quello che è la loro attività lavorativa. Di certo questo è un sit-in, non ci fermeremo qui fino a quando non riusciamo ad ottenere ciò che i lavoratori si meritano di questo comparto. E restiamo in tema. La FIALS di Basilicata accende i riflettori sull'esclusione del Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell'ASP dalla ripartizione dei fondi prevista dal Decreto Legislativo 34 del 30 marzo scorso, che prevede l'aumento delle tariffe orarie del personale medico ed infermieristico in situazioni di carico eccessivo dovuto alla carenza di personale sanitario. Una esclusione fa notare Luciana Bellitti, segretaria regionale FIALS, su cui le organizzazioni sindacali del comparto sanità dovevano essere consultate. La FIALS rivolge ora un appello alla Giunta della Regione affinché intervenga sulla revisione e sulla riformulazione dei criteri di ripartizione finanziaria per garantire che anche il DEU 118 possa beneficiare di questa misura. Bellitti sottolinea l'importanza di riconoscere il lavoro impegnativo svolto dal personale del 118 in condizioni spesso precarie. La cronaca giudiziaria con l'inchiesta della Corte dei Conti Lucana sulla nomina di Massimo Calenda, capo ufficio stampa della Regione, secondo i giudici contabili, non aveva requisiti per ricoprire l'incarico dirigenziale. Il governatore Bardi e la sua prima giunta chiamati ora a risarcire oltre 200 mila euro. Fabrizio Di Vito. Non essendo in possesso di una laurea ma soltanto di un diploma di maturità classica, non poteva ricoprire un incarico dirigenziale di fascia C e percepire il relativo stipendio. Invece Massimo Calenda nel 2019 era stato nominato capo ufficio stampa della Regione Basilicata, incarico ricoperto fino all'aprile del 2021, quando aveva fatto ritorno alla TGR Campania, dalla quale si era messo in aspettativa. Nomina finita dopo i numerosi articoli pubblicati dalla nuova nel mirino della Procura regionale della Corte dei Conti, che ha affidato alla Guardia di Finanze i dovuti accertamenti. E così si è arrivati alla contestazione di un danno erariale di poco più di 212 mila euro nei confronti del governatore Vito Bardi e della sua prima giunta, composta dagli allora assessori Francesco Fanelli, Gianni Rosa, Donatella Merra, Francesco Cupparo e Rocco Leone. La parte più consistente del danno viene addebitata proprio al Presidente della Regione per un totale di 106 mila euro, mentre agli assessori viene addossato il restante 50% diviso in parti uguali per un totale di circa 21 mila euro a testa. Ora sarà il processo contabile, fissato per il 19 marzo del prossimo anno, a delineare gli eventuali gradi di responsabilità dopo le accuse mosse dal procuratore regionale Vittorio Raeli. L'inchiesta contabile era nata sulla scorta di un altro articolo pubblicato sempre dalla nuova nell'estate del 2020 relativo al pagamento da parte della Regione Basilicata dell'ultima rata di un sondaggio costato complessivamente 45 mila euro affidato alla società Noto SRL per valutare i bisogni e le attese dei cittadini in relazione alle attività e alle decisioni del Governo regionale. E in relazione alla notizia della richiesta del risarcimento dei giudici contabili e al Presidente della Regione Bardi si registra l'intervento del segretario dell'ospice CGL Angelo Summa. Come CGL, dice Summa, avevamo in più occasioni segnalato il modus operandi del Governatore Lucane, evidenziato inoltre anche dalla stessa Corte dei Conti che lo scorso dicembre, in occasione della parifica, aveva eccepito nella relazione dello stesso procuratore Raeli la mortificazione dei dirigenti in servizio e uno svilimento della stessa funzione dirigenziale per le nomine effettuate dall'esecutivo in assenza di valutazione comparativa. Eccezioni, puntualizza il segretario, che la CGL ha sollevato puntualmente in occasione delle chiamate degli attuali direttori generali dei dipartimenti regionali con norme alla mano rilevando l'illegittimità e l'assenza di requisiti cui sono seguite esposti e denunce alla Procura e alla Corte dei Conti. Sono sicuro, conclude Summa, che gli organi competenti stiano valutando la legittimità di tali atti e il rispetto delle norme che regolano la vita amministrativa pubblica sono alla base della terzietà e dei principi democratici che nessuno può prevaricare. Con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un uomo di 30 anni è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri attursi su disposizione della Procura della Repubblica di Matera. L'uomo ha aggredito i militari che gli stavano notificando alcuni atti. Prima ha cercato di strappare il documento dalle mani di un militare e poi li ha aggrediti entrambi provocando loro lesioni che sono state medicate al pronto soccorso. Voltiamo pagina, ci occupiamo del futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi c'è attesa per il vertice convocato oggi alle 15 in regione dal Presidente della Giunta Vito Bardi in attesa del Tavoro Nazionale i sindacati tornano a chiedere certezze sulla produzione dei 5 modelli elettrici ma anche sulla tenuta occupazionale del sito di Melfi e del suo indotto. Lucia Pietrafesa Dopo la maxi mobilitazione del 18 settembre scorso che ha visto i lavoratori del sito automobilistico Lucano e quelli delle aziende dell'indotto protestare nell'area industriale di San Nicola di Melfi il Presidente della Giunta regionale Vito Bardi ha deciso di convocare le sigle sindacali l'atteso vertice è oggi alle 15 in Viale Verrastro tanti i nodi da sciogliere a partire dai 5 modelli elettrici da produrre a Melfi sui quali ad oggi la multinazionale non ha dato garanzie molto dipende dalla trattativa in atto con il Governo nazionale alla quale sono chiamate a partecipare anche le regioni in cui insistono gli stabilimenti Stellantis In risposta alla richiesta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di aumentare i livelli di produzione il gruppo italo-francese chiede un piano di incentivi mentre le parti sociali allo stesso modo intenzionate a blindare occupazione e produzione a Melfi chiederanno al Presidente della Regione Bardi di esigere al tavolo ministeriale un accordo di programma per l'industria lucana e per l'indotto Si tratta di un incontro decisivo dichiarano alla vigilia il segretario della UILM Marco Lomio e Vincenzo Tortorelli alla guida della UIL Basilicata affinché si definisca in modo chiaro un impegno preciso Si tratta di incalzare il Governo centrale scandisce Lomio con l'obiettivo di porre le basi per un patto per Melfi sull'auto che debba essere in grado di tutelare il lavoro e i lavoratori Risposte concrete al tavolo di oggi in Regione sono attese anche dalla Fismic che rimarca la necessità della stipula di un documento condiviso Il patto per Melfi, dichiara il segretario Pasquale Capocasale rappresenta la garanzia del presente e del futuro occupazionale delle maestranze che passa anche dalla produzione delle cinque vetture elettriche nello stabilimento Stellantis e di nuovi appalti per l'indotto e per la logistica Intanto l'annuncio del rinvio delle entrate in vigore della normativa Euro 7 consente di governare la transizione all'elettrico senza affanni evitando l'interruzione della produzione delle auto a motore endotermico con conseguenze negative sull'attività industriale delle aziende dell'indotto e sul mantenimento dei livelli occupazionali La viabilità è stata riaperta dalle ore 7 di questa mattina il tratto della statale 18 Tirrena Inferiore interdetto al traffico dall'ANAS domenica scorsa per consentire gli interventi di sostituzione dei componenti danneggiati nei sistemi di monitoraggio del movimento franoso di novembre scorso la chiusura aveva generato non pochi disagi specie per la viabilità scolastica con gli studenti costretti a spostarsi in treno per raggiungere gli istituti di Maratea dopo la chiusura della provinciale 3 per Trecchina interessata da uno smuttamento L'avanzamento delle risorse del PNRR in Basilicata va a rilento e nel Mirino ci sono soprattutto i comuni e quanto emerge dalla relazione al 30 giugno della struttura di missione con gli esperti burocrati che parlano di difficoltà anche per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico e alla missione 6 sulla sanità Celestino Benedetto Le bacchettate maggiori riguardano i comuni ma anche alcuni dipartimenti ed enti regionali la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR in Basilicata aggiornata al primo semestre 2023 e redatta dalla struttura di missione mette nel Mirino soprattutto le amministrazioni comunali incapaci ancora di mettere a terra progetti e risorse la Basilicata ricordiamo è destinataria di investimenti per un totale di 1 miliardo 826 milioni e 927 mila euro di tali risorse circa 700 milioni sono a regia esterna non coinvolgendo nell'attuazione gli enti regionali per la verità la struttura mette le mani avanti e avverte che l'avanzamento finanziario del piano con un'analisi puntuale delle spese afferenti alla progettualità in essere potrà essere registrato compiutamente a partire dal secondo semestre dell'anno periodo in cui termineranno le fasi di progettazione e si avvieranno i cantieri laddove queste attività non siano già state implementate gli esperti burocrati parlano di criticità con riferimento anche agli interventi previsti per il dissesto idrogeologico e la missione 6 relativamente agli investimenti che riguardano le case di comunità con il raggiungimento del target previsto nella relazione tuttavia sono tanti gli alibi per le questioni aperte in Basilicata come in tutta Italia è scritto si sconta l'aumento delle materie prime e più in generale dei prezzi che si riflette sul costo delle opere da realizzarsi nell'ambito del PNRR anche in prospettiva generando criticità inattese ma inoltre rilevata anche guardando in prospettiva la carenza di risorse umane e il disallineamento delle competenze il dato forse più problematico riguarda la capacità amministrativa dei soggetti attuatori le problematiche organizzative e di rendicondazione un organismo unico di filiera che sappia promuovere le produzioni vitivinicole lucane e che faccia sistema tra gli imprenditori per affrontare le criticità promotrice del progetto è la col diretti Basilicata posta alla guida di un parternariato associativo finalizzato alla Costituzione e al successivo riconoscimento del distretto agroalimentare denominato Divino una strategia condivisa dal Dipartimento delle Politiche Agricole della Basilicata già dalla prossima settimana saranno programmati incontri preparatori di condivisione degli obiettivi e degli atti propedeutici con tutti i potenziali partner abbiamo ascoltato il Presidente di Coldiretti Basilicata Antonio Pessolani a margine dell'incontro in Regione Coldiretti Basilicata intende mettere insieme strategicamente tutta la filiera del settore vitivinicolo e per farlo abbiamo individuato lo strumento del distretto agroalimentare di qualità di vino l'abbiamo chiamato quindi di tutto il settore del vino pensiamo che bisogna andare insieme quindi tutti i consorsi di tutela dall'Aglianico del Vulture, dall'Enoteca dal Grottino di Roccanova dalle terre dell'Alta Val d'Agri, dalla Dioci di Matera bisogna fare uno sforzo anche insieme ai singoli privati alle singole cooperative per stare tutti uniti sul mercato è un mercato già debole quest'anno affronta delle criticità ancora più importanti e per cui anche al Vini Italy o in altre occasioni bisogna andare con un'immagine coordinata come Basilicata Nell'ultimo martedì del mese di settembre le comunità di Melfi e di Rapolla si incontrano nella chiesa rupestre di Santa Lucia nel cuore del Monte Vulture nel solco di un'antica tradizione che vedeva i fedeli invocare la benedizione del vino novello appena spillato ancora oggi i parroci delle due cattedrali celebrano la messa Vittorio Laviano un'antica tradizione che condividono le comunità di Melfi e Rapolla è quella dell'ultimo martedì del mese di settembre quando nel cuore del Monte Vulture incontrata Giaconelli presso la chiesa rupestre che custodisce preziosi affreschi di Santa Lucia i fedeli si riuniscono per ascoltare messa Sì, questa devozione è certificata anche dalla presenza di chiese dedicate a Santa Lucia sia a Rapolla che a Melfi credo a Rapolla di più antica tradizione e quindi è un ritrovarsi delle due comunità di Rapolla e di Melfi in questa giornata nell'ultimo martedì di settembre una data che ci consegna la tradizione ci viene tramandata questa data dove oggi c'è solo questo momento liturgico della celebrazione eucaristica ma dai racconti che è possibile raccogliere presso i fedeli era anche un giorno di ritrovo, di svago si era soliti anche trascorrere parte della giornata qui la merenda penso che qualche anno fa la scuola iniziava sicuramente più tardi quindi era anche un momento di ritrovo per le famiglie, per i più giovani e si mangiava si era soliti mangiare il panino con la frittata almeno a Rapolla questa è la tradizione che ci viene consegnata e quindi è un ritrovarsi con chi ci ha preceduto ecco con un segno della devozione questa cappella così bella con questi affreschi sulla vita di Santa Lucia ecco per dire come ci ricolleghiamo alla fede di chi ci ha preceduto in un passato nemmeno troppo lontano si invocava a Santa Lucia la benedizione del vino novello appena spillato ed è ricordando queste tradizioni che si rinsalda un rapporto importante tra le due comunità appunto quella di Melfi e di Rapolla l'importanza delle radici si ricordiamo le radici per ravvivare il senso di un'appartenenza quindi non è solo evidentemente un ricordo nostalgico un ricordo prettamente storico ma è un ricordo che ci aiuta a dare nuova forza nuovo vigore al cammino di fede che si realizza oggi e in questo tempo in questo momento storico in questi luoghi che noi abitiamo un'ultima domanda legata invece ad un momento particolare per questa diocesi perché il Vescovo sta per iniziare un cammino molto significativo per voi sì è un momento davvero storico un momento importantissimo perché il Vescovo ha indetto ed ora inizia ufficialmente la visita pastorale quindi il Vescovo visiterà tutte le parrocchie dalle più grandi alle più piccole sostando in ciascuno di esse per una settimana e quindi secondo il calendario che è stato prestabilito per le zone pastorali le quattro zone in cui è divisa la nostra diocesi il Vescovo ecco sarà compagno di strada di tutte le comunità è il primo di ottobre domenica c'è l'apertura solenne di questo momento significativo a memoria ecco recente credo che sia la terza visita di un Vescovo negli ultimi 50 anni ricordando la visita di Monsignor Todisco e ancora prima quella di Monsignor Cozzi ci spostiamo nel materano territorio battuto al setaccio dalla guardia di finanza del comando provinciale di Matera durante la scorsa estate le fiamme gialle hanno sequestrato 280 grammi di droga denunciando tre persone per spaccio e segnalandone altre 84 alle prefetture per possesso per uso personale i controlli svolti con le unità cinofile hanno interessato le località a maggior flusso turistico le principali stradali le principali reti stradali e i terminal bus dall'inizio dell'anno sono stati 136 gli interventi delle fiamme gialle nel settore della droga con 6 arresti per spaccio e 24 denunce e il sequestro di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti le celebrazioni per i 100 anni della nascita di Rocco Scotellaro toccano anche la Puglia è stata l'associazione culturale Amici della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi ad organizzare a Gravina un incontro dedicato all'intellettuale politico lucano con ospite la storica tricaricese Carmela Biscaglia della Deputazione di Storia Patria della Lucania sentiamo Vito Sacco continuano le iniziative organizzate in tutta Italia per celebrare il centenario della nascita di Rocco Scotellaro recentemente la storica tricaricese Carmela Biscaglia deputata della Deputazione di Storia Patria per la Lucania è stata invitata a Gravina in Puglia da Marisa D'Agostino presidente dell'associazione culturale Amici della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi per parlare di Rocco Scotellaro intellettuale della modernità e costruttore di democrazia l'incontro è stato patrocinato dalla regione Puglia e dal comune di Gravina con la collaborazione dell'associazione d'arte contemporanea eventi di Bari Rocco Scotellaro non ebbe particolari frequentazioni con Gravina in Puglia ma Carmela Biscaglia ha voluto evidenziare invece i rapporti di Scotellaro con il politico e scrittore altamurano Tommaso Fiore e con suo figlio Vittore che insieme al politico e magistrato barese Michele Cifarelli a Fabrizio Canfora all'antropologo napoletano Ernesto De Martino e ad altri costituirono quel gruppo di giovani che nel 1940 frequentarono la libreria La Terza di Bari a cui faceva capo Benedetto Croce figura chiave della cultura italiana e grande voce di opposizione al fascismo grazie all'intermediazione di Tommaso Fiore ha spiegato Carmela Biscaglia essi intrattennero un intenso dialogo con Croce quando questi veniva a Bari ed era ospitato dalla famiglia La Terza la cui casa editrice era l'unica a resistere alle pressioni del regime grazie al sostegno del senatore Croce attorno a lui si coagulò quel gruppo di giovani intellettuali dalla decisa scelta antifascista seguita da un forte impegno meridionalista e Tommaso Fiore fu la figura di riferimento per loro come pure per le forze antifasciste lucane insomma Bari fu in quegli anni un autentico laboratorio politico democratico del meridionalismo e della libertà che è condizione prima anche per le rivendicazioni dei contadini lucani di cui Scotellaro fu il poeta della libertà contadina poi la professoressa Biscaglia ha illustrato la vita di Rocco Scotellaro sottolineando i momenti più importanti della sua vita politico-amministrativa e della sua attività letteraria di poeta e scrittore durante l'incontro Stefania Carulli Vincenzo Crocitto Maria Di Battista e Nunzio Malcanni hanno letto brani di Rocco Scotellaro Quante cose potrebbe essere nella sua vita Ramorra giocatore di calcio terzino ma se fosse più grosso ecco l'entrata di Ramorra gli attaccanti è tutto per questa edizione la prossima alle 19 grazie per l'ascolto arrivederci grazie a tutti